Eccolo qua Bene Quanto sei brutto Eh vabbè, questo è Nemesis, questo è Resident Evil, questo è Nemesis, ho capito Eccolo Mamma mia Posso chiudere il PC? Tanto no, no Show me everything you have, Aquaductio Pento Prima vado This is evolution Ok, come si apre il bozzolo Tra il bozzolo Tra il bozzo Esce Esce So allieno dalla testa di cazzo Letteralmente Vedete che Il corpo sembra che c'è e poi c'è il pene Cioè questo è un pene E' così Inutile che Così Le mani che scendono La cappella Infatti la cappella sistina Adesso capisco Adesso capisco il riferimento Della creazione Il tocco di Dio E la creazione E la cappella sistina E' formata Ecco qua La testa di cazzo Mi suggerisce di saltare In realtà Potrei anche però Per dovere di cronaca Insomma Almeno sta roba La mettiamo Facciamo così Questa è ecco tienilo occupato tienilo occupato mamma mia no pensavo che era caduto dai chi è? un altro pochino un altro pochino hai capito che è successo ma penso se l'ho fatta forse pure abbiamo finito il gioco non lo so forse no forse si che è successo? ah ancora vivo non lo so che è successo per la sua per salvare non lo so è la sua sensazione o non lo so per me ? o non lo so non lo so o non lo so ho la sua capito per prezziare sofia le 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 ma scegliamo le scegliere le scegliere sofia Ah, è vabbè. Ma che la verità di pensi di persone è una cura, non potrebbe essere capito se non fosse per Sofia. La sua cuore è una tonica per la mia dolcezza, è per questo che ho chiesto per la mia. ho fatto, ma non potrei avere lì alla fine quindi ho cercato di usare questa sera per guardarla anche se queste mani non potessero è l'ora che mi trova e l'ora guarda, guarda il vento eh sì, non mi sono mai fidato non mi sono mai fidato, infatti lo avevo dall'inizio, la prima da come è cominciato il gioco, quindi... ok, scendiamo e l'ho detto qui in faccia ecco qui lui ci ha usato per stabilire l'odine è chiarissimo che hai la mia intenzione sui te sei, ma sembra divertente mi mi ricordo cosa succede adesso mi non lo so ma io non lo so ma io conosco un cosa tu stai attaccato con me e io stai attaccato con te, pal non potrei avere l'altro l'incesa è lunga ancora? ancora tanto? si? mamma mia eccolo qua andiamo a uccidere sto stronzo i knew you could do it we have all the ingredients we need i dreamed of this day for so long the moment you'd come back to life you can be human again by using that vast supply of ergo in the arm of god i just need the final ingredients the one that holds your memories and your lifespan your heart if you give me your heart all these trials and tribulations will be over you have been a brilliant and a good boy as your reward no, non è vero, è una bugia è l'ennesima bugia di so stronzo figurati se ci credo no, ti uccido no, assolutamente no assolutamente no all kill me I believed you were a good boy and you insist on breaking my heart Beh, credo Carlo era... ...mistuloso. Si sembra che hai avuto la sua personalità invece di la sua memoria. Ma un padre sempre guarda i loro bambini. Anche i bambini che devono essere giocati, come tu. In mio proprio modo, ho cresciuto a te amare. Dopo tutto, sei il popolo che avrebbe portato il mio figlio di vita. Io sono... ...dissappointe in te. Non mi sembrava che questo si succede. Mi credo che sei un ragazzo. Se non mi sembrava, Lo sapevo L'ho detto io Non è che lo uccidi, no? Fa tempo, no, no, aspetti che... Eh, vabbè Eh, per quello gli serviva il cuore Avete capito che gli serviva il cuore? Gli serviva il cuore Per metterlo nel corpo di questo qua Che forse era il figlio vero Che è morto Non so se l'hai capito Eh, ho capito, eh, vabbè Guarda, c'è Mi ha rotto il cazzo 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 Grande Che è successo? Molto? No Bene Ottimo No No Niente 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 Mi ha rotto il cazzo No 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 Ah, è quella Ah, hai capito Quella che ci faceva le armi Giustamente Vabbè, vabbè Mamma mia Eh Perché non sono così bravo pure io Cioè, voglio dire Capito? Cioè Che Eh, vabbè Però Che cazzo No Un altro pochino Un altro pochino Non posso morire Non posso morire Non posso morire Adesso Non posso morire Adesso Un culo Urso Burattino Di merda Quante volte Devo uscire, no? Se già Maia Quindi Ma come? Ma come? Ma che cazzo Scherzava? Au Ma perché? Quindi? Ah Bene Un po' di giustizia Alla fine Ah Lui si è messo in me Ci ha salvato la vita Praticamente Alla fine No, nel senso che Ok Vabbè L'abbiamo ucciso noi Poi dopo Non lo divido Il finale Scusate Un attimo C'è un attimo di Eh Ok Sì Penso che Che in realtà Lui si è messo davanti Vabbè Un ultimo gesto Vabbè Almeno Un sacrificio Utile Anche tu guarda Un utile Burattino Muori e non per i coglioni Le pazienze Cioè Purtroppo Mi antipatia per questo Per questo Insomma È stato abbastanza Insomma All'inizio Non è evidente È finita come Ho desiderato che finisse Quindi Mi sta bene questo finale Mi sta bene questo finale Sta bene così È finita come A presto A presto A presto it's intriguing and worth further observation I'm counting on it expect another report at the next meeting Paraselsus returning ah and when I return I will find her for sure another key of ours Dorothy quindi questo cliffhanger è il prossimo il continuo quindi la dice nel paese delle meraviglie interessante va bene va bene va bene va bene no no iniziamo la partita ok è stato un lungo percorso una roba impressionante l'abbiamo giocato un po' così un po' in maniera impropria sicuramente molti di voi l'avranno capito però ragazzi io lo dovevo finire e quindi l'ho finito bello ma troppo difficile quindi souls like non solo per me ritorniamo a noi il gioco mi è piaciuto ni la storia mi è piaciuta si il gioco insomma è un souls like è stato bellissimo per chi piace i souls like è un esperimento che non ripeterò perché i souls like praticamente sono tosti quindi però chapeau che questo è un gioco assolutamente di un livello superiore rispetto a tantissimi altri giochi che ho giocato quindi andava finito il gioco piacerà a tantissimi spero che abbiate comunque gradito i miei gameplay in qualche modo ci vediamo al prossimo gameplay un saluto a tutti da GoItalia ciao iscriviti al nostro canale grazie a tutti 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 grazie a tutti